Trecentesima partita del Cittadale in Serie B e finalmente Dalmanuzzi si torna a casa almeno con un punto. Beh sì, insomma, noi volevamo fare una partita a Galiarda, a Tosta. Io avevo detto sotto certi aspetti, ecco, per fare il risultato qui a Cisena bisogna comportarsi come loro. Vuol dire come atteggiamento, non sto parlando d'altro, come atteggiamento bisogna lottare su ogni palla. Siamo stati gratificati di questo, una squadra che non molla mai. Anche quando stavamo perdendo 2-1, fino alla fine abbiamo lottato e siamo stati premiati. Il positivo è stato anche finalmente all'inizio della partita. Sì, di solito noi subiamo sempre e poi ripartiamo. Io credo che poi sui calci piazzati abbiamo fatto bene, anche se ci lavoriamo parecchio durante la settimana. Per cui anche l'approccio che a volte magari manca, che questa squadra ogni tanto rimane nello spogliatoio, spogliatoio, scende in campo dopo 10-15 minuti e a volte magari la frittata è già fatta. Anche l'approccio è stato magari più giusto, più centrato. Il Cittadella ha bisogno anche di queste situazioni, di centrare la partita dal primo secondo. Ascolta il pallo di Colì su Camporese, come l'hai visto dalla panchina? Non lo so, non perché non lo commento, ma non l'ho neanche visto. Quindi non lo so, dovrei rivedere le immagini per televisione, però non posso commentarlo perché non l'ho visto bene. Un'altra nota positiva è che chi è entrato si è distinto bene, si è fatto subito notare. Ma lo dicevo oggi alla preparazione della partita, io dicevo chi entra deve fare la differenza. Lo dicevo all'inizio nella seduta tecnica di stamattina perché a volte quelli che entrano hanno delle pseudo-giustificazioni. Non è facile centrare la partita, entrano demotivati. Io ho detto chi entra oggi deve fare la differenza. Perché? Perché è più fresco, perché deve dimostrare all'allenatore che magari l'allenatore ha sbagliato anche la formazione. Mi hanno preso la lettera, sono contento. Ecco il gol di Perez, quanto è importante per lui? Insomma, gli mancava il gol? Io credo che sia molto importante per un attaccante, gli mancava il gol, poi un attimino è stato criticato. E quindi sono contento per lui, ma sono contento anche per Mineso che è entrato, è stato determinante nella rimonta della squadra. E quindi sono stati gratificati di una buona prestazione. Ecco, sono contento poi che oggi c'è stato uno spirito giusto, ma non basta. Bisogna dare continuità a questo. È un buon pareggio? Sì, è un buon pareggio per quello visto in campo. Meritavamo anche qualcosina in più, però alla fine per come era andata la partita il pareggio, diciamo che tra virgolette è giusto. Niente, siamo felici, poi Cittadella festeggiava questo traguardo storico e siamo contenti. E tu finalmente ti sei sbloccato? Sì, mi sono sbloccato, poi sono contento perché poi da un po' che mi capita qualche occasione, però non riesco a buttarla dentro. Niente, sono tranquillo perché l'importante è lavorare bene, come ho sempre fatto. La fiducia da parte della società c'è, del mister c'è, quindi sono tranquillo e lavoro bene. Questo è quello che mi fa star bene. Ascolta, l'esultanza dopo il gol ti abbiamo visto azzettire un po' dalla parte della tribuna. Ce l'avevi con qualcuno in particolare? No, è una cosa personale che non posso dire, però era un po' polemica, diciamo, però niente di che, me la tengo per me e va bene così. Non c'entrano i giornalisti di Cittadella? No, no, i giornalisti, non faccio mai polemiche con i giornalisti, ognuno ha il libro da esprimere la propria opinione, senza alcun dubbio. Ascolta, a chi lo dedichi il gol? Lo dedico alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che fino adesso non è mai potuto venire per questione di lavoro e lo dedico a lui e alla mia famiglia che è a casa giù a vedermi. Grazie a tutti.